bentornati in studio siamo con francesco mastrantuono assessore al comune di villaricca buongiorno avvocato mastrantuono allora sono tante le novità a villaricca la prima domanda però la volevo fare su quello che avete trovato mi raccontava lei è stato amministratore della città ma di avere trovato il comune ancora più in difficoltà di come l'avete lasciato sì abbiamo trovato molte difficoltà però come lei ben sa non mi appassiona fare la storia del passato a me appassiona il presente il presente che partiamo con delle grosse difficoltà economiche dovute principalmente al dissesto e alla difficoltà di incassare un poco di tutti gli enti locali e poi la carenza di personale tenga conto che noi abbiamo un organico di circa 30 dipendenti quanti dovremmo averne almeno per cinque o per sei quindi queste sono le difficoltà però io penso anche le performance si misurano nel presente come le dicevo prima e quindi senza voler addossare colpe responsabilità né tanto meno letture sul passato ci vogliamo proprio misurare per quello che riusciamo a fare con queste grosse difficoltà iniziali allora mi raccontava che sono in atto una serie di progetti importanti tra cui un importante accordo con l'enel che questa è una notizia che ci fa piacere perché solitamente l'enel distrugge le nostre strade con tutto il rispetto per gli operatori dell'enel ma molto spesso vediamo delle scene da mettersi le mani nei capelli con strade appena rifatte che vengono poi un'altra volta attraversare dall'enel e un'altra volta distrutte voi avete fatto invece un accordo per far sì che l'enel abbia a cuore le strade nel senso che poi le rifaccia si la prassi era prima quella di fare lo scavo e di riempire di colmare lo scavo che per quando tu lo possa fare a regola d'arte è comunque una toppa per usare un termine sartoriale abbiamo fatto un accordo con l'enel visto che questi scavi interesseranno interi tratti viari che l'enel rifarrà completamente il manto stradale e mi riferisco principalmente a via sturzo e via siani che sarebbero un po con la perpendicolare la parallela di via ricofermi e al corso italia sia il primo tratto che il secondo tratto già sono iniziate alcune opere credo che sia una traguardi importante perché per noi è tutto a costo zero quindi a costo zero facciamo rifacciamo tre arterie importantissime per la nostra città tenga conto che ci sono vogliamo vedere quali sono i carceri allora abbiamo delle grafiche regia se possiamo iniziare a mandarle in onda così le descriviamo insieme esatto questa è la prima ora tratteggiato il rosso ci racconti un po dove siamo e quali sono le strade allora la parte inferiore la rotonda di villa ricca quindi partendo da sopra dalla confine con giuliano si entra a villa ricca nel confine con giuliano dove c'è l'ospedale si arriva per via siani dove c'è la scuola siane quindi molto importante anche per quanto riguarda i ragazzi di quella scuola e poi si esce sulla corso europa la cosiddetta circunvalazione estera per ritornare sulla rotonda di villa ricca e fare il primo tratto di via ricofermi diciamo quello che va verso marano non quello che va verso il centro della città andiamo avanti c'è un'altra slide questo è il primo tratto di corso europa è un tratto breve ma molto molto importante come vede quella macchia verde e il parco urbano e quindi diciamo un tratto molto molto trafficato questo già in corso questo tipo di lavori già lei nell'ha fatto dei sopralluoghi e già sono iniziati degli scavi e noi ovviamente stiamo cercando di insomma sveliamo una piccola anteprima stiamo cercando di arrivare un poco più avanti insieme all'ene però per il dovere di correttezza il tratto diciamo ufficiale quello qualora riuscissimo a portare a termine questa trattativa con l'ene certamente arriviamo fino alla fine del tratto fino alla fine del tratto bene e questo è il tratto più importante che corso etale il secondo tratto quindi come vede diciamo partiamo dalla da quello che ha visto lei che come vede il punto di partenza della confine con calvizzano dove c'è il cosiddetto alveo ci rimettiamo su corso etale entriamo nel parco san viaggio dove c'è il parco san viaggio insomma il corso etale verrà completamente rifatto perché poi come vedremo dopo c'è un'altra slide che riguarda invece un'altra opera che riguarda il tratto di centri corso etale che nel centro sul corso etale un poco una bretella di collegamento insomma tra la zona centrale la zona periferica della nostra città e poi come dicevamo abbiamo quest'ultimo tratto questo però è un altro lavoro infatti l'abbiamo sottolineato in blu perché non sono strade che verranno rifatte dall'enel ma come verranno rifatti io all'inizio l'ho detto mi piace pensare al presente non al passato quando siamo arrivati questo un finanziamento ministeriale di 2 milioni di euro ce l'hanno dato per spacciato insieme a tutto l'ufficio tecnico al suroordinato della prefettura e a tutto lo staff del comune siamo riusciti a recuperare a prendere per i capelli questo finanziamento e qua è qualcosa di più importante perché non è solo il manto stradale parliamo di sottoservizi parliamo di rete fognaria parliamo di rete idrica e riguarda via enrico fermi che un po il nostro biglietto da visita all'ingresso della città tant'è vero che una volta anticamente questa strada via provinciale perché era proprio diciamo l'ingresso all'interno della nostra città è il primo tratto di via leonardo da vinci che quindi come non le sfuggirà si congiungerà con via siani che abbiamo visto prima che il tratto che sta facendo e poi c'è il tratto storico il piccolo tratto blu che vede il corso italia alla parte centrale vicino alla parrocchia della chiesa madonna dell'arco quindi si completa si unifica il tratto di corso italia e si restituisce almeno la città è un bel pezzo di città storico 4 5 strade importanti tenga conto che in tutto questo abbiamo in sospeso ancora il bando strade varato dalla regione campania dove insieme allo staff dell'ufficio tecnico abbiamo già individuato diverse strade tenendo in considerazione anche la frazione decentrata che è una cosa molto molto importante c'è anche la strada abbastanza non voglio dire disastrate ma comunque da rifare certamente abbiamo visto nella prima slide la rotonda di villaricca c'è stato un servizio che ne abbiamo fatto il comune poi ha proprio da tagliare l'erba però io mi chiedo come è possibile che non ci sono imprenditori che vogliono dare una mano a un comune in difficoltà come villaricca ma questo ormai è una prassi in tantissimi municipi di adottare una rotonda tra l'altro la rotonda di villaricca per chi la adotta darebbe una grandissima visibilità e di tenerla come dio comanda come accade in tantissimi altri comuni basta spostarsi un po dalla provincia di napoli guardi io non le so dare una risposta anche perché voi avete una best practice perché c'è una rotonda affidata lo possiamo dire tanto facciamo pubblicità a costo zero agli amici del mcdonald che viene tenuta bene come dio comanda diciamo io non le so dire il perché le cose le so dire cosa vogliamo fare cioè il collega pasquale ciccarelli che è molto impegnato diciamo stava cercando di fare anche di valutare nel rispetto della legge degli incentivi non solo pubblicitari per chi adotta questa io oggi sono dei costi purtroppo il comune di villaricca è una piccola azienda e quindi valutare ogni tipo di costo noi vorremmo proprio con questi interventi cercare di ridare fiducia anche agli imprenditori qualora volessero investire semplicemente adottando una io quindi stiamo valutando anche delle forme di incentivi proprio per dire dateci fiducia abbiamo bisogno di più è lungo il percorso per cercare di sistemare un po con le cose però è un percorso che non ci scoraggia e quindi diciamo vogliamo ecco recuperare anche un dialogo non solo con la comunità ma anche con il centro imprenditoriale locale che secondo me molto importante questo poi accade a villaricca accade anche in altre realtà noi abbiamo fatto un servizio la scorsa settimana a melito e il paradosso della rotonda di melito che tra l'altro stiamo ben capendo se città metropolitano comune ma pare sia comune di melito perché pare sia stata acquisita al patrimonio comunale questo è un altro grande tema delle conflitti di competenze ma su quella rotonda insistono almeno tre vivai che sono tre eccellenze del territorio di melito la viva istica e nessuno voglio dire ha l'idea di dire troviamo una soluzione per poter gestire anche in forma privata la manutenzione di una rotonda che è comunque il biglietto da visita di una città le strade la manutenzione stradale sono sempre il biglietto da visita di una città e proprio per questo immagino che lei si sta molto concentrando anche sul rifacimento del manto stradale che a villaricca era diventato diciamo quello di una città non degna perché le buche e le toppe veramente erano troppe abbiamo da poco completato stiamo completando chiedo scusa il secondo intervento di recupero del manto stradale con le varie buche le varie diciamo certe volte per una prova di vera e propria voragine oggettivamente da quando mi sono insediato il secondo intervento però questi interventi danno una una soluzione temporanea perciò ci stiamo concentrando sulle strade il mio obiettivo è quello ad una ad una cercare di rifare quanto più strade possibile anche la questione degli interventi giornalieri sarà sostituito con un accordo quadro che l'ufficio sta per pubblicare dove ci sarà sarà affidato per 24 mesi a chi vincerà questa procedura ad una ditta che non dovremmo aspettare ogni volta le varie procedure per l'affidamento per questi tipi di lavori tenga conto che anche la riforma del codice dei contratti ovviamente ci impone determinate regole che noi osserviamo scrupolosamente rotazione affidamenti eccetera con l'accordo quadro avremo un soggetto che per 24 mesi sarà il soggetto il nostro come dire il nostro sos sul territorio c'è una buca vai lì però le ripeto sono interventi ma accade tutte le grandi ma noi già ne abbiamo uno sul servizio idrico e funziona bene quindi tutte le perdite idriche l'ho trovato per la verità ecco bisogna dare attacco delle cose buone che sono state fatte ho trovato questo accordo quadro sul servizio idriche fondiare abbiamo una ditta molto seria che lavora molto bene veramente insomma ci risponde in maniera tempestiva lo stesso lo faremo con le buche stradali e con il rifacimento dei marciapiedi per cercare di risolvere nella testa di rifare le strade però l'obiettivo nostro l'obiettivo di questa amministrazione è quello di rifare quanto più strade possibile che non possiamo ovviamente per ritornare all'esempio introduttivo mettere sempre la toppa dobbiamo cercare di fare fare una strada in meno ma farla per intero i lavori pubblici sono diciamo una delega complicata anche perché una delega di corpo a corpo con le persone tra l'altro sono una delega anche delicata dal momento che ha vissuto il comune di villaricca con lo scioglimento lei come si sta muovendo per essere sicuro di non sbagliare io mi affido completamente al sovraordinato della prefettura che l'ingegnere nardi e al responsabile geometra cacciapoti del servizio tecnici diciamo io mi limito a programmare sono molto molto presente quasi ossessivo la parte gestionale la fanno esclusivamente loro e devo dire che ho trovato ci sta l'architetto saracino l'ingegnere aiata le signore insomma che stanno là all'ufficio ho paura di citare che altrimenti dovrei citare ho trovato persone che un grande spirito di sacrificio alle volte non guardano l'orologio non guardano se c'è la pausa pranzo non guardano se è il loro giorno per venire al comune danno il massimo che tenga conto poi i lavori pubblici è un settore che condiviso insieme all'edilizia scolastica che c'è il vice sindaco il collega giovanni granata c'è l'urbanistica l'ambiente che come dicevo prima l'architetto pasquale ciccarelli e quindi una delega è il cuore è il motore del comune e io mi affido per la gestione completamente allora per la parte di indirizzo ovviamente diciamo rivendico il mio ruolo e cerco di dare il massimo però è un ruolo sempre condiviso mi confronto con opere pubbliche in arrivo voi avete un po' perso come comune di villaricca con lo scioglimento il commissariamento il treno del pnr ma c'è qualcosa il pnr per la verità nel settore ville comunale nel settore edilizia scolastica i due colleghi lo stanno portando avanti molto molto bene pochi giorni fa in giunta è stata approvata scuola viva dove faremo un nuovo asilo unito quindi diciamo c'è qualcosa né opere pubbliche ci siamo concentrati sulle strade noi non servono tanti nuovi edifici anche perché questi edifici sono dei costi e spesso c'è la difficoltà a poterli gestire a mantenere come insomma è stato anche all'ordine del giorno l'esame delle ville comunali che ora diciamo con grande sforzo verranno riaperte verranno illuminate di nuove è dato allo splendore che merito quindi diciamo per quanto riguarda la mia tele opere pubbliche principali sono le strade la proprio per evitare di fare la manutenzione dare nuove strade a questa città e siamo un attimo lavorando anche sulla rete idrica questo è il mio prossimo obiettivo o perché questa è una rete idrica vecchia insomma io credo che ad oggi siamo da più di 150 interventi di perdite idriche e quindi stiamo cercando di intercettare finanziamenti per fare una nuova rete idrica un nuovo servizio idrico ovviamente tutte le dinamiche normative non ci aiutano c'è questo fatto del lake che non si sa quando andrà in vigore se andrà in vigore insomma è tutto un problema abbiamo due minuti penso che abbiamo raccontato un po tutto quello che le ha messo in campo parliamo un po di politica che giudizio da questa nuova era gaudieri un giudizio estremamente positivo è un poco come come dire il 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 campionato del napoli dello scorso campionato io sono un grande di fuoco insomma una squadra su cui all'inizio nessuno avrebbe scommesso invece una squadra che ha vinto il campionato io credo che darà ottimi risultati i vostri competitor puntavano molto il dito sul fatto che non avevate una coesione interna perché venivate in molti di esperienze diverse come sta andando lavorare con persone che vengono da famiglie politiche di esperienze diverse ma questo è un falso problema ormai abbiamo visto che le bandiere le appartenenze poli ai partiti politici sono non non è questo l'elemento che caratterizza un'amministrazione dovunque ci giriamo ci sono queste esperienze sono i risultati l'amministrazione si misura sui risultati noi dobbiamo dare i risultati noi dobbiamo vincere il campionato per lei che significa vincere il campionato vince come si può portare a termine queste opere pubbliche che abbiamo messo in cantiere far riportare e ritornare vila ricca alla normalità come funzionamento della macchina amministrativa ridare alle nostre scuole la dignità che hanno sempre avuto ridare ai nostri servizi la dignità che hanno sempre questo signore che il periodo del commissariamento è stato un periodo che sostanzialmente ha allontanato la comunità dalla politica ecco per me vincere il campionato significa riavvicinare la comunità alla politica perché chi fa politica una missione importantissima io credo nella politica sempre ringraziamo francesco mastrantuono vi facciamo l'imbocca al lupo penso che tutti i cittadini di villa ricca saranno molto contenti di camminare su strade degne di questo nome io vi saluto questo era l'ultimo appuntamento di campagna oggi per questa settimana non mi resta che augurarvi un buon fine settimana resta un buon fine settimana